Ciao a tutti amici e amiche di Andrew's Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato a Sid Meier, Civilization 6 con Menelik II di Etiopia. Ricominciamo la nostra partita nel turno 134, avevamo un paio di apostoli pronti a zompare verso la Germania che è già praticamente convertita e l'India che sarà la nostra prossima frontiera. Non riesco bene a capire come sia messa la Svezia, sapete che cosa faccio? Vado nell'interfaccia ad attivare le rese dell'HOD, mostra sempre, perché anche se mi da un fastidio cane, io adesso riesco a vedere qua sopra lo status delle altre nazioni. Intanto io sono al primo posto con i punti, punteggio globale, che è positivo, metti insieme praticamente mele, pere, capre, cavoli e dice ok, questa civiltà è la migliore. Che cosa sono le mele e le pere? Sicuramente non dal punto di vista militare facciamo abbastanza pietà. Dal punto di vista scientifico, spadrune jam, nonostante i nostri distretti scientifici facciano schifo al maiale, perché? Perché abbiamo città su colline che producono quantitativi di fede vergognosi. Quantitativi di fede vergognosi che tuttavia, se diamo un'occhiata al bilancio di fede... Il bilancio di fede è una cosa diversa, perché qui vediamo, allora fino a qui vediamo la produzione per turno, qui vediamo invece il totale. E sulla fede vedo che comunque gli indiani hanno un buon bilancio di fede rispetto a noi. Peccato che noi facciamo 270 punti fede per turno, secondo me è abbastanza probabile che siamo più forti noi, ma io non ho neanche voglia di controllare. Turno successivo, qui c'era uno scoutino che adesso si può... può andare alla ricerca magari degli altri continenti, lo scoutino. Hamburger ancora cristiana, la convertiamo all'ebraismo. Conversione all'ebraismo avvenuta con successo, adesso andiamo a convertire l'India. E fra tre turni dovremmo venire le piramidi, speriamo, dai. Qui abbiamo ancora un boost, che cosa si potrebbe fare? Ma quasi quasi vado a lavorare questa casella, dicendo una meraviglia naturale. E qui ad Arar c'è la possibilità magari di papparci i granchi, è più oro, oppure il pesce. Oppure la facciamo breve, costruiamo un altro vivai ad Arar, in modo che adesso abbiamo due vivai e altre tre risorse marittime, direi che queste bastano e avanzano. Spostiamo la nostra bella Liang, detta anche Rosy Bindi dagli amici, ad Alamata. Quindi, Rosy, riassegniamola ad Alamata, dove poi faremo sempre i pescifici. Servono più abitazioni! La libella sta schiattando, andiamo a vedere, dai. Che è? Ho ignorato sta cosa da una vita. Moltiplicatore abitazioni 0,5, surplus cibo 10. Che cosa vuol dire sta cosa? Chi è che è in sala mi sa spiegare. Sta cosa vuol dire che sto buttando in eccesso 5 punti di cibo, il che non è una cosa bella. Diamo il focus alla produzione e il minus al cibo, in modo che comunque la libella si focalizzi sulla produttività, e a questo punto perdiamo soltanto 3 punti di cibo. Però abbiamo una, come dire, una geografia che privilegia purtroppo il cibo. Quindi dovremmo comprare un paio di caselle, in modo che, soprattutto vicino a Petra, iniziamo a sfruttare questo deserto. Guardate che meraviglia! Qui possiamo prendere anche l'altra fede con la chiesa nella roccia. La diga di Veldia è completata e la diga ce l'abbiamo esattamente qui. Io qui pensavo di fare una zona industriale, ma probabilmente cambierò i piani. Vediamo, comunque. E comunque il punto è che chi se ne frega, perché tanto non è che adesso possiamo fare altri distretti. La crescita va, l'attrattiva c'è. Io suggerirei... Meraviglie utili al momento non ne abbiamo. Andiamo di granaio e murino d'acqua per velocizzare ancora la crescita. E qui abbiamo l'obelisco. Sarebbe una buona cosa qui potenziarci un pochetto. Allora, un luogo santo sarebbe buono, ma non è che abbiamo tutta quella santità nei dintorni. Tuttavia la fede fa bene, quindi Harald farà un luogo santo vicino alla capitale. E turno successivo. No, aspettate, fermi tutti! Gimma mi costruisce... Ho sbagliato. Veldia mi costruisce un apostrofo. E visto che c'è la possibilità di comprare anche con fede, allora qui stiamo facendo il granaio normale, il murino d'acqua, glielo compriamo con la fede. Avanti, tutta! Adesso dobbiamo mettere da parte il cash però, ragazzi, perché avevo altri piani per i soldi, ma vabbè, pazienza. I miei piani cambiano sempre molto rapidamente, lo sapete. Illuminismo. Sto registrando? Sì. Allora, possiamo prendere la carta del razionalismo, la carta del mercato libero e la carta del liberalismo. In più ci dà gli effetti del turismo e l'oligio sono devisate, chi se ne frega. Luogo santo, fede, estetica, commercio, whistlebank, scudieri. Questo va bene tutto, tranne gli scudieri che adesso togliamo perché mettiamo un esercito professionista. Il che significa soltanto una cosa, che iniziando magari dalle città più di frontiera, iniziamo l'aggiornamento delle unità, in modo che il nostro esercito sia aggiornato. Servirà tempo, avrei voluto avere un po' più di soldi, però lo faremo. Poi possiamo fare un missionario e un guru. Visto che l'India non ha una religione, l'India invece ha cristiani, vabbè, qualcosa di questo tipo. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. L'India la convertiamo con gli apostoli. Dimenticate tutto quello che stavo dicendo. Adesso andiamo alla prossima tech. Io qui potrei suggerire la storia naturale per motivi culturali. Il luogo santo è completato a Gondar. Io qui posso fare una moschea, però mi metto a costruire il santuario. Qui abbiamo la piazza del teatro, iniziamo a costruire l'anfiteatro e qui abbiamo... Abbiamo un apostolo che fa un po' pietà, però va bene. Ci siamo. Ok, l'Etiopia qui ha un bel 6 di boost. Heidelberg però è di fede ebraica. Andiamo verso Patna. Dai che adesso troviamo i vicini. Facciamo un giro verso... Parlando di vicini, facciamo un giro per capire se c'è la possibilità di fare scambi. Allora, vino per olive. Certo che si può fare. Che contento è il nostro amico. Cavallini rampanti, in cambio di qualsiasi cosa tu voglia. Darmi. Una tantum uno, ma vai a quel paese. Gold per iron. Vediamo un po' se funziona. Sì. Sì, 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 sì. Ok. Altri scambi direi di no. Abbiamo più città di te? Certo, noi siamo molto più bravi. Tanti saluti. Andiamo dal candrone nazionale a fare uno scambio. Il candrone ci potrebbe dare il marmo in cambio dell'argento. Accettiamo. Facciamo uno scambio. Il chandra tanta roba ama i voti. Chandra gupta. Se io ti do 50 voti mi ha 14 per turno. Fatto. Adesso andiamo da quelli un po' meno simpatici, ma ci possiamo fare poco. E l'elefante ce l'ha. Non ha i cavalli questo. E li paga. 40 cavalli tedeschi. Fai uno scambio. Fai uno scambio. Voti. Se ti do un 20. E se ti do un 20. 14 per turno. Dai. Così adesso chiudiamo che abbiamo un po' di soldini in più in tasca. possiamo fare le nostre porcate con un po' più di disinvoltura. Addis Abeba cresce. I suoi cittadini sono orgogliosi della loro ricca vita metropolitana. D'accordo. Allora. Iniziamo ad andare verso la... Ah ho capito che è andata la città. Gli indiani gliel'hanno papate tutte. Il canale di Veldia c'è. Vabbè praticamente adesso qui Veldia ragazzi è diventata autonoma. Le facciamo fare i costruttori. E poi volevo vedere un attimo una cosa. Qual è la città con più scienza? Michele ha un 19. Veldia ha un 28. Perché c'è Pingala. Però voglio ben capire se devo spostare Pingala oppure no. No lo teniamo lì. Perché Pingala a Veldia mi dà veramente il boost scientifico che mi serve. Calcutta! Non il cantante eh. Non faccio una confusione. Applausi per noi. Applausi per noi che abbiamo costruito Petra e le piramidi. E non siamo una civiltà del deserto. Però intanto questo va ad aumentare anche le rese dell'anfiteatto nelle vicinanze. E soprattutto ci permette di crescere in alto ben benino. Perché adesso le piramidi per chi non si ricordasse che cosa fanno. Le andiamo a vedere. Tipo io. Costruttore gratuito e tutti i costruttori hanno un miglioramento extra. Non è male. Cioè voglio dire. Non è niente di stratosferico strabiliare. Però non è male. Iniziamo fattorizzando tutte queste cose. E adesso Calcutta. Iniziamo a convertirla. E fatte le piramidi a Michele. Qui c'è la possibilità di fare un nuovo distretto. E io ero proprio curioso di... Esatto! Di fare qui la piazza del teatro. Perché mi dà un bel più quattro. E poi Michele e la libella diventeranno molto buone. Allora, a Michele, già che ci siamo, possiamo fare degli upgrade? Ah, ma non abbiamo ancora... Ma che pirla che sono! Scusatemi, ma... Io volevo fare... Io volevo fare... Volevo fare i balestrieri, ma non posso. Non ho ancora la tecnologia. E vabbè, ma a sto punto va bene, dai. E vabbè. Allora, posso comprare... Dov'è la nostra Liang? Ah, fra due turni. No, perché con la fede poi compro un po' di ragazzotti. Eeeh, Palm Maker! Ho giocato con lui nella mia ultima partita per i fatti miei ed era uscita una partita OP, poi ho smesso di giocare, non ho manco finita. Ma stavo stravincendo. Era la famosa partita in cui avevo 32 di bonus vicinanza con un distretto industriale. L'avevo postata su Instagram, ma da foto non ce l'ho più. Inondazione moderata. La libella un sacco di cibo. Le parole chiave delle... Ok, abbiamo l'industrializzazione. Ci buttiamo subito sulla meccanica, ma... Sì, che meraviglia. Abbiamo il carbone. Abbiamo il carbone. Allora, costruttore lo prendiamo qua. Costruttore lo prendiamo qua. Il ragazzone mio è Jim. Qui ho anche un colono, visto che posso per me. Potevo farlo... Va bene. Allora, Jim ha fatto l'università. Se fantastic. Facciamo uno stando commerciale. Sto pensando dove. Qui. Intanto recuperiamo il pecoreggio. E... Vabbè, niente. Praticamente io qua... Sconfitta minore. Cioè, se io attacco... Se io attacco i missionari svedesi, ho la sconfitta minore. Non sto scherzando. Ah, ecco. No, perché vittoria è schiacciante. Probabilmente ho preso un... Un apostolo molto scarso. Ma questi li dobbiamo far fuori tutti, perché se no cristiani sono svedesi. E questo mi fa capire che io non ho assolutamente tempo da perdere. Devo buttarmi a nord. Se voglio butt... Cioè, se voglio sconfiggere definitivamente la fede degli svedesi. Ok, turno successivo. Intanto abbiamo trovato una nuova meraviglia naturale. L'Everest. Da Poundmaker. Adesso mettiamo in esplorazione automatica. L'Explorer. Avanti. Allora, visto che siamo avanti con la tecnologia e con la cultura, Poundmaker già ci sorride. E se Poundmaker ci sorride vuol dire alleanza. E vi spiego perché. Allora, due cose. Lo scontro lo lasciamo. Le scritture le possiamo anche lasciare. Il simultaneo pure. Mi piacerebbe togliere questo più due punti. Il scrittore è che ormai è relativamente inutile. Iniziamo col Machiavellismo a produrre spie. E continuiamo ad attaccare. Allora, la libella mi va a fare qui una miniera. Però dovremmo aggiustare questa fattoria rotta. E fatemi vedere ad Addis Abeba. Ebbè, andiamo a prendere subito il carbone. Qui facciamo delle segherie. Che ci servono perché... Eh, sì, ci servono. E adesso praticamente noi qui abbiamo la possibilità di fondare un'altra città a nord. Perché... A meno che noi lo vogliamo fondare qui sul ferro. Si potrebbe anche fare, però... Una città qui a nord non guasta. Senza scortare, proprio così. Adesso andiamo a fare la tipografia perché se riesco a portare a casa la città proibita sono felice. Andiamo da Pound Maker. Chiediamo l'ambasciata, l'amicizia e adesso uno scambio. L'avorio in cambio del miele. Che accetta. E un altro scambio... Scarsino però ci sta in un'ottica di arricchimento sporco. E cattivo. Che guarda ci sono in corso, scusate. Il Barbar... Cristina e Chandra e Barbarossa e Chandra sono in guerra. Ah, ah, ah. Questo mi interessa. No! Pfff, che cazzo combinato! Ho appena consumato un... Un pers... Volevo prendere una posta, l'ho preso un colono. E ci ho anche guardato. Zero turni da crescita. Fate crescere questa città, per carità di Dio. No, non ci voglio credere. Tanto iniziamo a potenziare il nostro esercito. No, ma veramente, proprio l'ho guardato. Ho detto, non devo fare così, eh. Non fare così, endo. E poi click. L'ho fatto. Cioè, a volte... A volte mi... Veramente mi stupisco di me stesso. Sì. Cavallini, rampini, via. Tutti tuoi. Dacci il cash e siamo felici. Allora. Niente, pare che gli svedesi si siano levati un po' dalle scatole. Noi ci spostiamo da Calcutta e andiamo a Patna a continuare a convertire all'ebraismo. Niente, questo colonna a questo punto va sul ferro. Andiamo sotto ad Addis Abeba. Così, punto. Bel dia, magari ci dà un po' di cibo in più. Anche qui un po' di cibo in più. E l'esercito di Terracotta è andato. L'amicizia col Chandra è scaduta. Ne facciamo subito un'altra. E stabiliamo l'ambasciata permanente. Aggiustiamo. Qui, tra l'altro, ho noto che anche il mais è stato... Cioè, sì, ci sono state queste inondazioni. Una tanto, un motto, un diritto di passaggio. Non ti do niente a te, ma scherzi, ma attaccati. Alleanza di ricerca. Va bene? A te lo do il carbone. Ok. Stop, 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 perché ci sono i soldini e si può fare questo. E questo. Ora, Addis Abeba ha fatto la cappella del Gran Maestro. Possiamo iniziare subito con una fabbrica. Oppure compriamo una spia. Ed è importante farle subito, le spie. Qui, fra sei turni, abbiamo una bellissima casella. Titolo governatore. Vado a promuovere... Il Vesco. La città ignora la pressione delle religioni non fondate dal giocatore. Quando finisci di costruire un edificio, guadagni il fede, pari del 25% del costo di costruzione. Quello che mi interessa, ragazzi, è il Santo Patrono per avere degli apostoli superpotenti. Io devo ancora decidere se voglio vincere con la cultura o con la fede. Cioè, ci sto pensando perché penso di poter fare facilmente entrambe le cose, ma... Come ben sapete, facilmente non è una parola... Da usare... C'è una parola da usare con calma in questo gioco. Ok. Adesso posso comprare anche le unità con la fede. Che è tanta roba. Però, in tutta onestà... Aspettiamo adesso perché poi mi prendo... Oggi sto facendo un po' troppo errorini. Che cosa ho fatto adesso di sbagliato? Ho usato della fede per comprare dei costruttori senza aver attivato la carta della... 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 della servitù della gleba. Ne ho presi tre. Io, con quei tre, avrei avuto sei cariche in più. Se avessi aspettato quattro turni. Quindi adesso aspetto. E niente. È così, punto. Non c'è bisogno di spiegare altro. È così. L'altro protestantesimo. Cade bene. Patna è diventata ebraica. Se adesso non sbaglio, io penso che l'India praticamente abbia quasi tutte le città ebraiche. Qui vittoria è schiacciante. Protestantesimo a pezzi. Andiamo direttamente a Chennai. E qui iniziamo ad attaccare... le città. Bene. Bene, davvero. Ok. Lavoriamo prima le risorse marittime e poi facciamo le nostre... i nostri vivai. Posso fare un apposto? Lo facciamo a Michele. A questo punto... 510. Santuario di Gondar è andato, facciamo il Tempio. Completato la Biblioteca di Adria, facciamo l'Università. Completato l'Anfiteatro di Lalibela, facciamo il Museo Archeologico Lalibela. Avanti. E Patna mi va qui in Svezia. E abbiamo gli Arali. Tutte le volte che voglio vincere con la religione c'è la rabbia, che è la nazione religiosa più forte della partita. È un onore incontrarti. Ma proprio un onore di quelli. E la rabbia è fondata lo zoroastrismo. Interessante. Vedo suddita il marchio del male. Chi ha ottenuto la saggezza conosce la vera natura della società. Sembra che anche gli arabi siano in una società segreta, ma non la nostra. Non quella dell'oscuro Dio. Eh, però le prenderete, a prescindere. Tanto Yon Köping diventa ebraica. Adwee l'abbiamo potenziata per benino, eh. Adesso sì che stiamo facendo le cose. Stiamo veramente potenziando le caselle. Niente, che questo fa schifo. Ok, abbiamo incontrato un nuovo continente che, per carità, ci serve fino a un certo punto. Andiamo sull'astronomia e dicevamo che iniziamo a fare i vivai. Allora, Addis Abeba sta facendo una spia. Quanto ci serve per comprare una fabbrica? 1.320 soldi e... Ok, la costruiamo allora. E questa spia va subito a rubare denaro. Dove? Dai più ricchi. Alziamo la votazione. L'unità della classe di promozione prescelta con la mia più forza in combattimento. Non me ne può fregare di me, una cavaliaria leggera. Velocizziamo la produzione di unità militari così ci facciamo l'esercito, magari. Anche se, onestamente, fino agli aerei io non ho voglia di costruire eserciti. Ok, anche Chennai adesso è convertita. Link e ping, iniziamo a bastonarla. Questa posta lo facciamo salire perché secondo me servirà un po' una mano. E qui finalmente fondiamo dire d'agua, che sembra un po' un gioco dire e fare baciare lettera d'agua. La fondiamo immediatamente e facciamo un porto. Intanto la spia è completata, andiamo di fabbrica. Dicevamo la spia chiacca più soldi. I norvegesi ma sono amici. Tra i tedeschi, Cristina e gli arabi, lo mandiamo agli arabi. Mandiamo questa spia dagli arabi, dai. La romperà le palle agli arabi. Però la cosa più giusta da fare. Confermo il posizionamento. Tu nel frattempo vai a vedere se trovi altra città. Ok, non le trovi e allora fai un'esplorazione automatica. Qui la libella adesso può crescere. Quindi togliamo sta cosa e la facciamo salire. Possiamo fare un apostolo. Lo facciamo qui. Il congresso ha tirato un punto vittoria diplomatica perché ci abbiamo beccato con la produzione. Porto. Perché no? E qui abbiamo ancora un boost. Miglioriamo questa foresta. E tanti saluti. Qui ne abbiamo ancora due. Però ci spostiamo verso la libella perché potenziamo le colline di Petra. Altrimenti che cosa abbiamo fatto a fare? Eh? Ce lo chiedono tutti. Andiamo. Si converte in 81? No. Si converte adesso. No! Si converte in 81 ancora. Vedere la religione qua. Chissà quando si convertirà stessa forse mai. Boom. E niente. Linköping continua a rimanere protestante. Io non so quale sia la città sa. Ah! A parte che adesso gli indiani si conquisteranno anche Linköping. Quindi... Penso che gli svedesi avranno ben poco da dire. Colonialismo. Allora, fatemi controllare una cosa prima di... 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 Quando si arriva il colonialismo bisogna fare una cosa. Continenti. Siamo tutti in Artide noi. Siamo tutti in Artide. Quindi non abbiamo nessuna città su un altro continente. È un peccato, ma tanti saluti e pazienza. Allora, lo sconto all'esercito professionista si toglie. E si mette la coscrizione per i soldini in più. Poi le tasse coloniali non ci servono. La servitura greva però ci serve. Ok? Quindi... La mettiamo al momento al posto del Machiavellismo. Perché una spira l'abbiamo fatta. Poi la rimetteremo al Machiavellismo. L'architettura gotica non la voglio. La Rieselbank mi piace. Le tasse coloniali lasciamo le perdere. Vediamo se c'è qualcos'altro. L'eredità repubblicana. Tutte le città con un distretto ricevono più abitazioni, più attrattiva. Questa la diamo al posto della servitù della gleba non appena abbiamo fatto un po' di servi della gleba, appunto. Quindi... Uno. Due. Il prossimo turno ne facciamo un altro paio e poi ci siamo. No! Un altro misclick! Ho usato un apostrofo per lanciare una crociata. Più che una crociata è un'inquisizione. Oddio, non che faccia schifo avere un'inquisizione, però sto facendo tante di quelle cagate. Oh, mamma mia, vabbè. Ok, qui ci siamo, andiamo su questa casella. Linköping l'abbiamo convertita, non ancora. Se la volontà di Dio è che il tuo popolo venga convertito, tu stai buona e ti fai convertire dal mio popolo e non romperò le palle. Questo è il dialogo interreligioso che si è svolto. Intanto, allora, Nurköping e Linköping sono diventate ebraiche. Yonköping la era già, ci manca Vasteras e basta. E forse qui c'è un'altra città, però. Poi abbiamo praticamente convertito un po' tutto il mondo. No, tutto il continente, non il mondo. Avanti, dai! E avere un continente già nel turno 146, completamente nostro. Insomma. In Svezia molte canzoni ti dipingono come la malvagità fatta a persona, ma non solo in Svezia. Comunque grazie, mi fa piacere. Ok. Guardate che hanno 6 boost, perché 3. Più 1 delle piramidi, più 2 della servitù della gleba. Senza bisogno di Liang. Io adesso vado a fare un costruttore ad Alamata dove c'è Liang. E questo sarà un bel 7. Se avessi aspettato prima, avrei fatto... Avrei avuto un po' di boost in più, ma pazienza, dai. Allora, qui c'è ancora un più uno, facciamo una segheria. Ricerca. Allora, adesso con attenzione, cerchiamo di buttarci sulla raffinazione. No, 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 no. Sulla radio. Voglio vedere l'alluminio. Veldì ha fatto il costruttore, inizia il campus. E il campus, guardate, qui ci sarebbe una casella perfetta per un campus. È vero che... È vero che... Eh no, anche qui però. Sicuramente ci costa meno in termini di cost opportunità. Bene. Colosso è andato. Servono più abitazioni, servono più abitazioni, servono più abitazioni. Faremo... a delle fattorie. La Polonia. Un'altra civiltà religiosa. Ok. È un onore incontrarmi. Certo che è un onore. Ma scherzi. Poggio. Ok, abbiamo completato l'ebraismo. Uno, due, tre. Ok. Penso che abbiamo preso praticamente tutte le caselle di deserto a disposizione, quindi qui non ci si può arrivare. Ai noi. Però, va bene, dai. Devo dire che Petra ci aiuta più che altro come meraviglia in sé per sé. E poi trasforma quattro caselle in quattro caselle davvero molto buone. Quindi, io sono ancora contento di averla fatta la libella. Anche se non è una Petra City con i controcoglioni come mi è capitato in passato di avere. Addis Abeba, cosa mi compri? Nulla. Turno successivo, allora. Tra la staffa e i... Staff. Vabbè, adesso andranno avanti per i fatti loro. E noi continuiamo... Perché la posta non si può? Perché non abbiamo abbastanza fede. Noi continuiamo a fare un po' quello che c'è... Quello che possiamo fare. Ok. E certo che confermiamo. Fondiamo la città su un altro continente. Adesso andiamo a vedere. Ottimo. Aspettiamo che finisca... No, non c'è niente da finire. Possiamo aggiustare già le fattorie. Anko Bear con la fede mi compra l'Obelisco al Dio Antico. Con la fede mi compra le mura. Con la fede mi compra il granaio. E mi parte a quattro. Eh, mi parte a quattro. Una gran bella città. Il prossimo turno prendo anche un builder e inizio subito a svilupparla. Con cosa partiamo? Con un porto. in questo caso per avere il collegamento e poi i soldi in futuro. Le rotte commerciali ci sono ancora. Va bene. Andiamo al prossimo turno. Poi penso che questo sia l'ultimo dell'episodio, direi. Uno, due, tre. Perché non posso? Uno, due. Ma infatti. Mi pareva. Adesso qui posso prendere il caffè. Sessione congresso mondiale speciale bla 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 La Svezia mi detesta. Emergenza approvata. Ritorno alla partita. Attaccheranno il Candra, ragazzi. Dunque ne posso fregare molto, ma... Ok. Avanti. Perfetto. Qui aggiustiamo tutto sul lungo il fiume così non ci sono problemi. Ok. Non vado al turno successivo. La chiudiamo qua. Volevo vedere se c'è la possibilità di fare il costruttore anche perché poi fra quattro turni chiudiamo definitivamente con sta cosa della servitù della gleba perché ho veramente potenziato tutte le caselle. Abbiamo Ankober nuova città. Abbiamo di Eredau a nuova città. Non credo di poter fondare. Sì, invece potrei fondare un'altra città su questa collina e avrei abbastanza spazio e penso che lo farò prima che termini questa età dell'oro con la fede e la di Saberani compro un altro colono e la fondo. Dopodiché abbiamo tutto cioè tutto quello che ci serve per partire per chiudere la vittoria religiosa oppure per aprire quella culturale. Allora, per quella religiosa secondo me è tutto un discorso di organizzazione Edviga Edvige ha già convertito la Norvegia e l'Arabia. Questo significa che noi abbiamo un competitor strabiliante in termini di religione perché anche se c'è Paonmaker che ha lo zoroastrismo e Cristina che è protestante Cristina la convertiamo noi adesso ma Edvige ha tre civiltà quindi praticamente nel mondo ci sono due gigantesche religioni che sono il cattolicesimo polacco e l'ebraismo dei nostri cari amici etiopi bella storia bella bella con la cultura anche qui siamo in vantaggio ma nemmeno tanto perché Harald in realtà ha due punti di turismo più di noi noi abbiamo più produzione di turismo forse perché siamo a 186 sì insomma è un po' un casino sta vittoria ma in fase finale con sta fede e le rock band potremmo fare tante cose ma con questa fede potremmo anche devastare la Polonia io ho una mezza idea adesso di andare a vedere che cosa c'è sulla mappa dall'altra parte del globo e vedere se la forza della Polonia è veramente così piccola perché se hanno soltanto 300 di forze militari noi siamo già a 337 se costruiamo un paio di portaerei i bombardieri e delle unità da sbarco noi possiamo far fuori la Polonia militarmente e poi intervenire con la religione tipo lo scopriamo nei prossimi episodi lasciate un pollice all'insù e ci vediamo presto